Novità per la mensa dell'anno scolastico 2019-2020, gestita attraverso la società pubblica Castellabate Servizi, che prepara e distribuisce i pasti agli studenti dell'Istituto Comprensivo Castellabate. La Giunta Comunale, al fine di agevolare le famiglie con basso reddito, ha deciso con delibera di giunta numero 157 del 25 ottobre scorso di garantire un supporto economico per l'acquisto dei ticket per i pranzi in mensa. Per accedere all'esenzione totale o parziale del pagamento è possibile presentare la domanda corredata dalla documentazione richiesta al protocollo del Comune entro il 26 novembre. I requisiti per accedere al bonus sono residenza nel Comune di Castellabate della famiglia e dei figli, frequenza della scuola nel territorio comunale, reddito familiare ISEE fino a 3.000 euro per l'esenzione totale e fino a 5.000 euro per l'esenzione del 50% del costo del blocchetto, fissato anche quest'anno a 45 euro per 20 pasti. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio politiche sociali in via Roma a Santa Maria di Castellabate oppure telefonare al numero 0974 960147. Abbiamo sempre messo al centro le esigenze dei bambini con una mensa di qualità eccellente che stiamo perfezionando sempre di più, dichiara l'assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali Elisabetta Martuscelli. Per questo quest'anno abbiamo deciso di aggiungere a tale servizio un concreto supporto alle famiglie economicamente disagiate che da dicembre, in base alla graduatoria di merito, potranno beneficiare gratuitamente del blocchetto pasti.